Il mondo dei partiti politici propriamente detti ed effettivamente tali è scomparso da un quarantennio. Ripercorrere la storia di un partito politico è un lavoro di scavo con qualche implicazione anche sull'attualità inevitabilmente, perché se è vero che il tempo trasforma tutto, però nulla nasce dal nulla. Credo che non sia notissimo il fatto che alcune correnti del Partito Socialista italiano reduce da una vittoria elettorale straordinaria, strepitosa, nelle elezioni del novembre 1919, finalmente col sistema elettorale proporzionale voluto da Nitti, 150 deputati socialisti, 100 deputati popolari, erano la maggioranza del Parlamento e se si fossero messi d'accordo non avremmo avuto il fascismo, chiusa la parentesi. Questo partito va al congresso e dentro di sé ha delle correnti, anche molto forti, che si chiamano così. Una si chiama dei comunisti puri, l'altra si chiama dei comunisti unitari. Quindi come accade che il Partito Socialista è popolato da militanti organizzati che si chiamano comunisti? Perché nel 1917 novembre la rivoluzione russa ha prodotto un risultato inedito, inatteso, sconvolgente per tutto il mondo, uno stato comunista enorme anche dal punto di vista geografico, che lancia l'idea di una internazionale di partiti affini. Il Partito Socialista italiano è pronto ad entrare nell'internazionale comunista. Problema, ci sono 21 condizioni poste dal Comintern, tutte interessanti, tutte cospiranti con i sentimenti dell'epoca, che erano abbattimento del capitalismo, eguaglianza, istruzione gratuita, eccetera, tante cose bellissime. La ventunesima clausola o condizione era cacciare dai partiti socialisti i riformisti. In Italia erano persone di un certo peso, Filippo Turati, Treves, ancora il giovanissimo allora Matteotti, va bene. E Menotti Serrati, comunisti unitari, erano anche pronti ad accettare le venti condizioni, ma non la ventunesima. Più che altro perché era imbarazzante cacciare dal Partito Socialista Filippo Turati, per esempio, e quella parte del partito che si riconosceva in lui e che nel congresso di Livorno, rivolta a Terracini, disse noi abbiamo gli stessi vostri obiettivi. E' una frase molto compromettente, solo che riteniamo che si possa procedere in maniera meno immediata ed eversiva e rivoluzionaria. La non accettazione da parte della maggioranza del congresso della clausola numero 21 determina che la minoranza, i comunisti puri e il gruppo dell'ordine nuovo, escono dal partito e vanno in un altro teatro nel quale pioveva addirotto all'interno del teatro e fondano, quattro gatti sostanzialmente, il Partito Comunista d'Italia. Gramsci disse che è una sconfitta, nel senso che non siamo riusciti a portare l'intero Partito Socialista su queste posizioni. Naturalmente era d'accordo con la richiesta del Comintern, o perlomeno non si opponeva alla richiesta del Comintern, alla quale invece Bordiga era molto eligio e quindi constatava che questo era di fatto un arretramento che non a caso segnò la crisi del Partito Socialista e l'inizio del cosiddetto bienio nero 21-22 che sfocia nella vittoria del fascismo. In questa situazione il Partito Comunista d'Italia è quasi istantaneamente, dopo la nascita del governo Mussolini, messo quasi fuori legge e a quel punto incomincia un'altra storia. È già un partito che fa una politica diversa, la politica della clandestinità, quindi della resistenza contro la persecuzione, della direzione all'estero, dell'infiltrazione capillare a rischio di essere sistematicamente beccati dalla polizia. La polizia politica fascista con Bucchini diventa efficientissima, una delle migliori polizie del mondo, i tedeschi l'hanno imitata, tale era l'efficienza. E non di meno i comunisti continuano a cercare uno spazio dentro i luoghi di lavoro, facendo notare che il fascismo ha promesso tante cose ma poi non le sta mantenendo, che è la lotta politica che si deve fare quando si sta all'opposizione o di un governo o di un regime. Nel momento stesso in cui scatta l'aggressione contro l'Unione Sovietica incomincia il proposito di dar vita ad una resistenza, ormai non più a parole ma nei fatti. C'è l'appello di Stalin ai partigiani, create forze partigiane dietro le linee nemiche e questo vale presto anche per l'Italia. Quindi il Partito Comunista d'Italia diventa il perno di una coalizione di partiti diversi che si sono resi conto della necessità prioritaria di cancellare non soltanto il fascismo al potere ma le sue radici. Ecco su che base nasce il nuovo partito. Quando Togliatti arriva nel marzo del 44 a Napoli non fa che predicare in maniera ossessiva e sembra quasi, come dire, imbarazzante. Questo è un partito nuovo e l'obiettivo del partito nuovo è un obiettivo nazionale. Se uno raffronta queste parole all'internazionalismo in forza del quale si tentava di cacciare turati dal partito nel 1921, sorge un certo sconcerto. Ma perché? Ma perché è cambiata la realtà. Perché l'esperienza del fascismo ha segnato tutti. Quindi il problema era impedire che una deriva di quel tipo insidiosa ed efficace si riproducesse. In Italia purtroppo la nascita del frazionismo saragattiano ha infangato la parola socialdemocrazia. Per cui era una parolaccia a sinistra ma non soltanto nel mondo diciamo più acceso dei militanti di base comunisti. Ma anche nel PSI era considerato una parola negativa ma perché era incarnata dalla figura di uno che era stato pagato per fare la scissione di Palazzo Barberini nel 1947. Questo è stato un peso, una palla al piede nell'evoluzione diciamo pure lessicale del nostro mondo politico. Quando nel 1963 Togliatti disse l'arma atomica ha cambiato tutto. Quindi l'alleanza con altre forze popolari come quelle cattoliche è indispensabile. Quando dice tutto questo è maturo per una modificazione anche formale di questo partito. Infatti poco dopo la sua morte Amendola sollevò la questione e fu messo in minoranza di riunificarsi con i socialisti e cambiare anche il nome, l'assetto. Fu messo in minoranza. Era un passo fondamentale. Averlo compiuto nel 1989 per il fatto che il muro di Berlino veniva demolito, l'est entrava in crisi significava dire una follia. Noi comunisti italiani ci cambiamo anche l'aspetto esterno, l'assetto, perché è finito a quell'esperienza. Eravamo cambiati molto prima ma non abbiamo avuto la forza di dirlo. Quindi la responsabilità potremmo dire di questa progressiva liquifazione e di chi non ha saputo in tempo operare quando era non soltanto a tempo per farlo ma in una posizione di forza, non in una posizione di debolezza come quella del novembre del 1989. In questo libretto mi è venuto un po' un sussulto di malizia, ogni tanto anche invecchiando al diritto di essere un po' malizioso. E cioè di riprodurre un pezzo del discorso che Mussolini pronuncia nel novembre del 1922 quando ha ricevuto la fiducia della Camera. E tra le altre cose dice ma il capitalismo, la storia del capitalismo forse è appena cominciata, per ora dobbiamo fare i conti col capitalismo. Ora se uno legge i testi, se esistono ormai si saranno persi, fondativi dei vari PDS, DS, S al cubo eccetera che ci circondano, attualmente forse PD. Questa formulazione sembra quasi una formulazione di un'estrema audacia sinistorsa, dire che protempore il capitalismo ha senso ma un domani non ce l'avrà. Secondo me rabbrividiscono i nostri simpatici esponenti del PD per i quali invece il capitalismo è diventato addirittura un atto di fede da venerare. E allora questa è una deriva vera. A mio modo di vedere, ma questa è un'opinione soggettiva, le cose non fatte a suo tempo producono risultati di questo tipo. Dopodiché non basta piagnucolare sul malfatto, uno si rimbocca le maniche e cerca di fare il possibile.